Oggi voglio fare dei giocchini con le molette Le molette sono quelle che si usano per stendere i panni faccio una pistola costruisco una pistola ovviamente a salve quindi tutto innocua e inoffensiva eccola qua, questa è una bella pistola a salve automatica pa 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 finiti i colpi ora farò un aeroplano un aeroplano militare che decolla vuoi? una così così in questo modo le ali una così ecco qua pronti per il decollo decollorabile perché ci sta staccando la valventa così in questo modo la valventa la valventa la valventa la valventa la valventa è la valventa atterrando Adesso Un'arma di tale Il mitra Mitra con caricatore Facciamo a 10 Fini di gol Bombe a mano Elastico L'embraco Attento le spalle E non finisce qui Tiro al bersaglio L'elastico Liscio Oppure la variante Soltanto con l'elastico Colpito Oppure Il modo Oppure 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 Così Lo rompo Fine 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 dei giochi Ecco qua Come ci si divertiva Tanto tempo fa Sono semplici cose L'elastico Le mollette Una chiave inglese Di papà Va bene? Grazie per l'attenzione Ciao